Sono stupido, la scelta calmante, un effetto calmante è un modo un po' brutto, un po' moscio di definirla la scelta. Penso che un dirigente quando prende una decisione su chi deve rimpiazzare, un allenatore così tanto importante, così tanto amato, debba prendere in considerazione tanti fattori. Io non sto dicendo qui che io sono la scelta giusta, assolutamente, però dico che chiudo gli occhi e provo a pensare ad altri allenatori disponibili sulla piazza messi qui oggi, magari penso che siano capaci, nessuno è più capace di tifosire a Roma, di saper amare due persone insieme, nessuno toglie il bene che hanno voluto e che vogliono a Mourinho, però penso che non sarà difficile per loro voler bene anche a me e quindi magari rimanere su quella scia d'amore, su quella scia di calore e di casino che c'era dentro lo stadio nell'ultima volta in cui sono venuto, è ovvio poi che non mi hanno scelto perché sono rimasti folgorati dai risultati o dai prestazioni della SPAL, cioè io non sono stupido, è una scelta che però calmante e brutto, secondo me è una scelta ponderata anche in base a fattori ambientali, a fattori di leadership, a fattori di mille cose. Sarà giusta, lo scopriremo fra qualche tempo e io ne ho approfittato, molto semplicemente penso che potrebbe essere una grandissima occasione per me per diventare l'allenatore che voglio diventare.